Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schenato da Iaforex.com e in questo video voglio parlare di trading intraday, trading multiday. Abbiamo visto tramite il canale YouTube che i video dove si è accennato, si è parlato di trading intraday hanno maggiori visualizzazioni o comunque più impatto come commenti e quindi come interazione con il nostro pubblico. E in linea generale diciamo che ci sta, perché? Perché c'è un sentimento comune un po' di tutta quella che è la community dei trader, soprattutto neofiti e quindi che approcciano a questa attività e sono all'inizio che pensano che un trading diciamo più di quantità, quindi con più trade durante il giorno possa portare a guadagnare di più poi a fine mese. Si pensa che il trading sia come una qualsiasi altra attività dove sto seduto in ufficio 3-4 ore il mattino e 3-4 ore il pomeriggio e chiudo il monitor, questo è, ho fatto la mia attività di trading, ho portato a casa un risultato e 200 euro oggi, 200 euro domani, poi alla fine del mese faccio il mio stipendio. Secondo me questa è la cosa più sbagliata che possiamo pensare del trading, il trading non è come la maggior parte delle altre attività. Nel trading la cosa importante è quella di agire quando bisogna agire, di capire che non tutti i momenti danno opportunità, quindi sono favorevoli per operare e stare dentro al mercato e consapevolizzandoci di questo possiamo capire che stare al mercato e stare davanti ai monitor per operare 5, 6, 7, 8 ore al giorno difficilmente può portare poi a dei risultati continuativi e buoni e costanti quindi nel tempo. Mettersi davanti al monitor tutte quelle ore quindi può portare addirittura a dare l'effetto opposto, quindi invece di guadagnare soldi alla fine del mese si perderanno dei soldi alla fine del mese. Subentrano emozioni, subentra il senso di vendetta nel caso in cui provate a pensare, faccio i primi due trade della giornata negativi, se non sono un bravo trader e quindi anche un bravo gestore sia dei miei soldi che delle mie emozioni è facile che quei due trade diventino poi quattro in perdita e ancora di più perché ne va di quel senso di rivalse, di vendetta, di cercare che alla fine della giornata io abbia un risultato positivo e questo rincorrere costantemente al risultato porta a un vortice negativo che in realtà poi alla fine della giornata invece di perdere, non lo so, 100-200 euro che magari poteva essere il nostro massimo rischio della giornata, succede che invece ne perdiamo 4-500 o ancora di più. Questa è l'esperienza comune di moltissimi che mi seguono, che mi hanno seguito, comunque che mi hanno scritto e che vogliono un po' svoltare nei risultati. Ecco, svoltare nei risultati vuol dire cercare di approcciare al mercato in maniera totalmente diversa. E quindi noi di Artforex che facciamo un trading più multi-day o comunque più di ampio respiro non andiamo sulla quantità, cioè se faccio 6-7 trade al mese per me è anche tanto. Perché? Perché cerchiamo di guardare alla qualità, quindi non stare davanti al monito per stare al mercato costantemente ma di valutare tutte le opportunità che ci possono essere durante il mese e valutare solo quelle che sono più aderenti al nostro piano, che ci permettono con un'analisi, magari anche continuativa ogni giorno in realtà, ogni fine settimana, però poi di premere il grilletto e di gestire poi l'operazione in maniera totalmente tranquilla è di creare quei presupposti anche a livello mentale per fare profitto. Quindi io posso anche fare un'operazione o due operazioni al mese che creano magari un profitto, non so, del 2 o il 3% sul conto e quando una persona, un trader, che si è messo lì 8 ore al giorno ogni giorno magari ha perso invece il 20% del conto in un mese. Quindi chi ha ragione? Nel trading ha ragione, poi alla fine chi tira la linea e i soldi li porta a casa. E quindi questo continuo ricercare nel mondo del trading l'idea del trading intraday o del trader intraday che si mette X momenti davanti al monitor, quindi X ore davanti al monitor e cerca l'opportunità, sì, c'è chi lo fa, ma non è, diciamo, per tutti. Se vogliamo ragionare in maniera un po' più professional, il nostro obiettivo è quello di avere un mensile, un trimestrale, un annuale statement del nostro conto di trading che sia profittevole, la cosa migliore è quella di focalizzarsi sulla qualità e di, una volta settato un po' e sapendo quello che si vuole trovare, non dobbiamo per forza stare a guardare il monitor tutto il giorno. Quindi consiglio di Airforex è quello di cambiare le vostre abitudini. Se siete dei trader intraday che non siete profittevoli, non riuscite a trovare la quadra, anzi addirittura state solo perdendo soldi. Quindi switchare metodo, switchare approccio, cercare di trovare nella qualità e quindi nel time frame grande, dove il data feed dei prezzi, le informazioni dei prezzi sono più lineari, lì trovare la nostra quadra e quindi cercare di operare non per forza stando davanti al monitor otto ore al giorno, ma magari ci si sta un'ora al giorno e a fine settimana un'altra oretta e si impostano le operazioni cercando di farle muovere e quindi poi con l'obiettivo a fine mese di realizzare una plusvalenza. In questo modo ovviamente si vanno anche a creare i presupposti a livello proprio di azioni, emozioni, quindi emozioni che generano azioni molto più coerenti e razionali che spesso, quasi mai, soprattutto con un po' di esperienza, non portano al trader a fare decisioni affrettate e che spesso portano a perdite. Per finire, concentratevi sulla qualità, non pensate che il trader è per forza il trader intraday che sta davanti al monitor X ore tutti i giorni, non è così, cerchiamo di lavorare, ripeto, sulla qualità, sui time frame ampi, poche operazioni al mese ma con l'obiettivo di guadagnare. Io vi saluto, spero che questa pillola di trading anche oggi vi sia piaciuta, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, ma prima di lasciarvi ovviamente vi chiedo di lasciare un bel like, un mi piace al video ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Un saluto, alla prossima, ciao a tutti!